Meditazione breve di sabato dell'ottava di Pasqua su Maria Madre della Resurrezione Ecco oggi che è sabato dedichiamo la meditazione alla Madonna e vogliamo invocarla con una preghiera nuova e nello stesso tempo consacrarci a lei, affidarci a lei facendo suo l'atteggiamento fondamentale che lei ha avuto verso Dio. La preghiera nuova è questa, Madre della Resurrezione facci risorgere con Gesù. Madre della Resurrezione facci risorgere con Gesù. Di nuovo, Madre della Resurrezione facci risorgere con Gesù. Ecco la parola del Vangelo è presa dalla risposta all'Angelo Gabriele registrata in Luca 1,38 che voi sapete bene, sono la serva del Signore avvenga di me secondo la tua parola. Diciamo tre volte. Sono la serva del Signore avvenga di me secondo la tua parola. Sono la serva del Signore avvenga di me secondo la tua parola. Sono la serva del Signore avvenga di me secondo la tua parola. Questa parola di Dio ha un significato molteplice perché storicamente indica la sua disponibilità a quello che l'angelo Gabriele le ha detto che le accettava il disegno di Dio però anche poi è stata, come si dice, scritta nel Vangelo di Luca per noi per tutti quelli che lungo la storia avrebbero creduto in Gesù e ha questo significato fondamentale, accettare Gesù nella nostra vita e seguirlo e questo significato fondamentale si manifesta soprattutto nell'accogliere Gesù risorto nella nostra vita ecco, perché la risurrezione di Gesù è il culmine della sua avventura terrena ed è il fine e ultimo di tutto quello che io ho vissuto ho vissuto per risorgere e dare lo Spirito Santo quindi quando noi diciamo, ripetiamo, avvenga di me secondo la tua parola intendiamo anche dire fammi risorgere come te fa che io creda nella tua risurrezione al punto da condividerla anche se in modo molto imperfetto perché noi sulla terra siamo come così tra due fuochi tra la forza della morte e la forza della risurrezione però il Signore vuole che noi già da questa terra attraverso la fede in Lui, l'apertura al Vangelo possiamo già fin d'ora condividere ancorché in modo imperfetto la sua risurrezione quindi quando noi facciamo nostra la preghiera della Madonna avvenga di me secondo la tua parola non solo facciamo una cosa gradita a lei ma entriamo di più nello spirito di questo tempo liturgico che è condividere la risurrezione di Gesù avvenga di me secondo la tua parola Maria, Madre della risurrezione, aiutaci a risorgere con Gesù per questo vi benedico, il Signore sia con voi con il tuo spirito ti ringrazio Signore che dai ancora un giorno di cammino sulla terra a questi tuoi figli e figlie ti chiedo che possano crescere Signore nella tua pace di proteggere Signore la loro mente dall'inquietudine del mondo e dagli assalti del maligno fa che possano godere della tua vita e testimoniarla nel loro ambiente a volte difficile per questo li benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen ecco